ciao a tutti da roberto falla e bentornati a una nuova puntata di 64 pit iniziamo la nostra nuova stagione e lo facciamo parlando di televisione o meglio di smart tv come tutti ormai sapete sta cambiando il nostro sistema televisivo in italia in continuo e costante aggiornamento questo per liberare delle frequenze per il famoso 5g per quindi gli operatori di telefonia e quindi parecchi di noi hanno dovuto sostituire la televisione il mio consiglio è quello di prendere una smart tv perché oramai la differenza tra una televisione chiamiamola standard ed una smart tv è veramente pochissima quasi nulla che differenza c'è però tra le due televisioni esteticamente esternamente sono praticamente uguali quello che cambia però è la potenzialità del televisore stesso infatti è possibile una smart tv collegarla direttamente ad internet magari vi starete dicendo ma a me non serve collegare una televisione ad internet qual è il mio utilizzo non è mica un computer beh effettivamente non è un computer questo è vero però serve collegarla a internet che può essere molto utile perché possiamo continuare vedere diversi contenuti che magari adesso non vediamo più tramite il canale televisivo standard e quindi tramite la nostra ad esempio antenna oppure per avere dei contenuti in più quindi per poter vedere qualche cosa in più e quindi potenziare la nostra televisione o anche per rivedere dei programmi che ci siamo persi infatti con una smart tv è possibile installare delle applicazioni un po come avviene per il nostro smartphone ogni smart tv ha un suo store sarebbe un suo negozio dove possiamo andare a prendere a scaricare le nostre applicazioni 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 che di solito sono tutte gratuite quindi non dovrete pagare praticamente nulla una volta scaricata un'applicazione un po come avviene per il nostro smartphone possiamo andare a vedere i nostri programmi preferiti tramite appunto passando dall'applicazione e continuare quindi a vedere i programmi che magari adesso non riusciamo più a vedere oppure a vedere di nuovi ma non solo anche a rivedere qualcosa che ci siamo perso infatti molte applicazioni mettono a disposizione la possibilità di rivedere programmi televisivi questo appunto ci permette permette a tutti quanti noi magari se abbiamo perso la puntata del nostro serial preferito piuttosto del nostro programma di poterla rivedere comodamente anche magari giorni dopo un po come avveniva quando c'era il vecchio videoregistratore sostanzialmente quindi solo che una volta dobbiamo preoccuparci di ricordarci di metterlo e di impostare l'ora per registrare il nostro programma adesso è fruibile direttamente grazie al web e quindi ad una smart tv non solo ma per gli amanti dei giochi è anche possibile giocare o per le smart tv più evolute è possibile invece addirittura quindi quelle che hanno una webcam e un microfono collegato è possibile anche fare delle videochiamate e quindi parlarsi con magari amici che non vediamo spesso quindi ricordatevi se dovete scegliere una televisione di preferire una smart tv perché oramai tanto costano come le altre ed è possibile andare lì e installare le applicazioni disponibili quindi avere una visione diciamo a 360 gradi della televisione non solamente come mezzo per vedere i soliti canali ma anche per aprirvi a nuove esperienze nuovi canali nuova informazione e per continuare a vedere magari i canali che adesso non riuscite a vedere più tanto bene per oggi è tutto ricordatevi sempre che un mondo tecnologico è sempre 64 bit e che questa è la prima di altre puntate dedicate alla smart tv